imparare a trasformare e ovviamente questo ci può essere un attaccamento che è lo stile lo stile di attaccamento lo stile di saluteo Maurizia Turci lo stile di attaccamento sicuro cioè io mi relaziono con le persone ma non ne sono attaccato non ne sono dipendente perché purtroppo questo quindi ricordatevi questi sono quattro punti fondamentali primo punto esiste la sofferenza per amore esiste la sofferenza per amore secondo punto la causa della sofferenza è il vostro attaccamento perché il primo punto in realtà è esiste la sofferenza per amore ma c'è un'altra cosa che ci dice che le cose cambiano le cose cambiano costantemente le cose sono in perenne continua trasformazione anche voi siete trasformati continuamente cambiate continuamente quindi perenne continua trasformazione e questa è la prima verità nobile nobile non perché la verità sia nobile nobile perché possono capirla solo le menti nobili quindi dubito che voi possiate capirla però diciamo le menti nobili possono capirla quindi dubito che voi possiate capirla intanto vi ricordo di mettere un like iscrivervi al canale vi ricordo che se fate l'abbonamento base ci sono i miei seminari del lunedì e del giovedì siamo appena partiti con la pianella e la programmazione neurolinguistica quindi vi invito annunzio vobis gaudium manum vi invito a partecipare ai miei seminari vi invito a partecipare ai miei seminari facendo l'abbonamento base perché saranno molto utili per voi salutiamo anche andrea giovani con l'abbonamento base potrete partecipare a tutti i miei seminari ed è una cosa che secondo me può essere molto utile poi ovviamente ci sono anche altri tipi di abbonamento dall'abbonamento live che è quello per dare un sostegno al canale all'abbonamento diciamo master consulting anche per avere una telefonata quindi queste sono tutte cose fondamentali quindi mettete fatto una donazione se volete dare un sostegno fate l'abbonamento base se volete partecipare ai miei seminari fate l'abbonamento live se volete dare un sostegno al canale quindi andiamo avanti quindi quindi prima cosa esiste la sofferenza e tutta la realtà impermanente seconda cosa l'origine della sofferenza la vostra bramosia il vostro attaccamento il vostro aggrapparvi a una realtà che è diversa da quella che speravate che fosse è inutile che vi aggrappata la realtà io voglio questa persona a tutti i costi perché se no è finita questo è la vera merda è la vera cosa che non funzionerà mai non funzionerà mai mai e poi mai quindi se vi aggrappate dalla speranza che questa realtà sia fissa costante se vi aggrappata la realtà che la che sia che voi potrete possiate necessariamente conquistare questa persona vi accanite su questo soffrirete per amore non c'è verso soffrirete punto soffrirete punto e basta e invece esiste il nirvana esiste la possibilità di uscire fuori dalla sofferenza esiste la possibilità di uscire fuori dalla sofferenza il nirvana è il distacco essere distaccati non significa non non significa non non lo sciogli pancia esatto ciccione monde cosa mangiate la pizza ingrassate come zampogne questo voi siete attaccati alla pizza pure e vi mangiate sta pizza magari i quattro formaggi formaggi fusi che fanno schifo a 200 gradi che vi fanno una fermentazione nello stomaco che neanche nelle fogne di calcutta c'è quella fermentazione con la pizza che mangiate fermenta fermenta più la vostra pancia delle fogne di calcutta e quindi questo è un altro concetto fondamentale perché siete attaccati anche alla pizza attaccate ai dolci quindi questo è un altro punto è un altro punto fondamentale questo è un altro tre ore di netflix sul divano ma che buon appetito buon appetito allora e poi la quarta nobile verità la modifica della quarta nobile verità legata